Ultimi giorni da consigliere per Raffaele Camardella che negli ultimi cinque anni ha ricoperto la carica di consigliere di opposizione a Polla. Non si è candidato e Raffaele Camardella spiega così il perché. Devo ringraziare chi cinque anni fa mi ha dato il voto, il proprio consenso e soprattutto a tanta gente che oggi mi chiama quotidianamente per sapere il perché della mia scelta, il perché della mia non candidatura. E anche Pasquale permettimelo di eliminare qualsiasi voce che in quest'ultimo tempo, in quest'ultimo periodo mi ha visto un manipolo di persone, di tre o quattro persone che hanno architettato bene un sistema per demolire non solo quello che ho fatto politicamente ma anche da un punto di vista personale e professionale. Ed eccomi qua Pasquale, io mi trovo qui proprio per dare tutte le cose che debbo dire, la verità, la realtà sul perché io non mi sono candidato. Bene, sono stati cinque anni dove io ho svolto, credo, in maniera intelligente e attenta, ho rappresentato l'opposizione. Ho fatto tutto quello che un consigliere di opposizione, quelle poche armi a disposizione che un consigliere di opposizione può avere. Mozioni, emendamenti, sono tutti tabulati, sono tutti catalogati nei diversi settori, quindi dall'ambiente, se ti ricordi bene anche il mio impegno personale per quanto riguarda gli incendi boschivi, i convegni fatti con la relazione del professor Ortolano, fino alla sanità. Mi ha visto coinvolto in prima persona perché anche fondatore, socio fondatore di curo del comitato che ricordo ancora oggi la raccolta di 10.000 firme per salvare il centro trasfusionale insieme al dottore Oricchio dell'ospedale di Polla. Queste cose che io sto dicendo sono tutte tracciate e ben visibili ancora oggi sulla pagina di Facebook di Polla Possibile, quindi invito chiunque a cliccare su quella pagina in modo da avere proprio un cronoprogramma di quello che io ho fatto nell'arco dei cinque anni. Non si è parlato più di quello che in realtà si faceva e quindi si costruiva e quant'altro con operosità. No, praticamente tutte finalizzate, quindi personalismi finalizzati nel vano tentativo di isolare e di ghettizzare un consigliere di opposizione. Ho avuto attacchi personali cruenti, io e la mia famiglia, a tal punto caro Pasquale, che oggi io devo giustificare, sono qui proprio perché ho voluto portare il mio unico e lo lascerò qui in redazione, chi ne vuole prendere visione, ma in ogni caso lo può prendere anche sulla home del comune di Polla. Andando sugli amministratori vedrà questi probabili posti di lavoro in cambio di chissà quali oscuri misteri, la mia non candidatura o la boccatura con alcune persone. Questa è una cosa che mi ha lasciato sconcertato perché ero convinto, caro Pasquale, che facendo parte di un'assise così importante come il Consiglio Comunale, uno potesse partecipare attivamente a quello che era una costruzione di progetti, di programmi, di definire degli obiettivi, ma tutto ciò assolutamente non è stato creato. Creare e distruggere, creare e distruggere le persone, il mio impegno non finisce qua, anzi continuerà e sarà ancora più forte. Perché? Perché io ho capito una cosa, che stando pure dietro alle poltrone, stando dietro alle candidature, io finalmente potrò fare tutte le cose belle, i progetti che io ho in mente di fare, tra virgolette sono anche vicepresidente di un'associazione neonata che si chiama Lilium, e quindi abbiamo molti progetti da realizzare. È un continuo, ma chiaro tutto quello che farò non lo voglio sporcare con la politica. Lei da capo dell'opposizione, di un gruppo di opposizione uscente, è sembrato quantomeno non consono partecipare alla prima conferenza, alla prima presentazione della lista di Rocco Giuliano, sindaco uscente, quindi sindaco che lei in cinque anni ha quantomeno contrastato come ruolo. Io personalmente, dall'arco dei cinque anni, ogni qualcosa che io ho portato sul comune, anche un emendamento, il più stupido, io non ho trovato chiusura, anzi mi è stato accolto, l'abbiamo discusso, e quello che io, è tutto tracciabile, ed è stato portato, è stato varato in consiglio comunale, in maniera con esito positivo. Tutto sommato, per quanto riguarda la presentazione della lista di Rocco Giuliano, se mi avesse invitato anche da lista, visto che sono un cittadino normale, l'hai detto tu, era d'obbligo andare anche lì, e se mi avessero chiamato dal pubblico per fare un saluto, lo avrei fatto ugualmente.